Il Vietnam, questa parola, o meglio il nome di questo stato ancora oggi evoca vicende veramente importanti, sembra strano perché voglio dire il Vietnam pur essendo abitato da 80 milioni di persone, 80 milioni sono tante, considerando che è una strisciolina di terra, vedete, è proprio piccolo il Vietnam, eppure è molto significativo, per la mia generazione, se vabbè fino a un certo punto mi ricordo la fine della guerra del Vietnam, ero un bambino, avevo avuto 8 anni, ma più che altro per le vicende in quanto tali e per le conseguenze di questa guerra. Il Vietnam, come anche la Corea, era stato diviso, innanzitutto andiamo con ordine, era francese, eccolo qua, colonia francese, come tutta l'Indocina praticamente, questa zona qua, Vietnam, Laos, Cambogia, era l'Indocina francese. Dopo la seconda guerra mondiale, i francesi furono, come si può dire, osteggiati, avversati dagli indipendentisti vietnamiti, che erano fondamentalmente guidati dal comunismo. Quindi i comunisti spinsero tantissimo per ottenere l'indipendenza, e misero in gravi difficoltà i francesi. A un certo punto, nonostante le lotte, il disperato tentativo, insomma, di tenersi questa piccola colonia, i francesi, sconfitti in un assedio, nell'assedio di Dien Bien Phu del 54, decisero di lasciare perdere, lasciare la loro libertà al Vietnam. Solo che agli americani non andava bene che il Vietnam finisse in mano comunista, e quindi decisero, in un accordo in un certo modo con la Cina e l'Unione Sovietica, che il Vietnam sarebbe stato diviso in due parti, il Vietnam del nord e il Vietnam del sud. Vietnam del nord, ovviamente comunista, e il Vietnam del sud, invece, una dittatura più o meno militare, con un presidente che poi faceva un po' quello che voleva, sorretto dagli Stati Uniti. A questo punto, fino al 1973, iniziò una guerra, una lunghissima guerra, l'unica guerra che gli Stati Uniti abbiano mai perso nella loro storia. Non l'hanno persa militarmente, l'hanno persa politicamente, perché sul campo non furono sconfitti. Anzi, quando con l'offensiva del TET, cioè del capodanno vietnamita, i Viet Cong, così si chiamavano i partigiani comunisti, i Viet Cong fecero di tutto per sconfiggere gli americani, beh, in quel caso gli americani asfaltarono i Viet Cong, un'offensiva completamente fallita. Eppure fu una vittoria politica, perché la lotta fu talmente dura, talmente particolare, che l'opinione pubblica americana disse basta con questa guerra del Vietnam. costata, appunto, 50.000 morti agli americani, se non vado errato, è un numero incalcolabile ai vietnamiti. Allora, i vietnamiti, appunto, il Vietnam, che in cinese significa lontano sud, il Vietnam, diviso in due parti, e con questi Viet Cong, che gli americani chiamavano Charlie, i Kong. Perché Viet Cong? Erano i partigiani, diciamo così, comunisti del Vietnam del sud. Protagonista di questa lotta era il famosissimo Ho Chi Minh, Ho Chi Minh a cui poi hanno dedicato la capitale del sud, che ha cambiato nome da Saigon a Ho Chi Minh City. City in inglese, ovviamente, i vietnamita non lo so. Allora, come veniva combattuta questa guerra fondamentalmente? I vietnamiti, ecco qua un bel Viet Cong dotato di AK-47, i vietnamiti stavano nel... no, non è una K, vabbè, è un fucile, basta. Dominavano la notte, perché era una guerriglia in grado di andare dove volevano di notte, il sottosuolo, perché creavano delle reti chilometriche di passaggi sotterranei, e le giungle, la giungla. Quindi questi praticamente colpivano gli avamposti americani e del Vietnam del sud, e poi scappavano nella giungla, gli altri li cercavano, ma questi avevano addirittura delle botole nascoste, che so, dalla vegetazione, si infilavano in queste botole, e chiudevano questi coperchi con... sopra le foglie di palma, eccetera, e sparivano nella giungla o nella notte, a seconda delle situazioni. Gli americani invece avevano il possesso, gli americani i loro alleati, avevano il possesso delle città, dominavano il giorno, quando ci vedevano fondamentalmente, e dominavano l'aria, perché avevano il completo dominio dell'aria. E si spostavano tra un, come si può dire, da un posto all'altro, raramente via terra, ma soprattutto con gli elicotteri, e quindi il dominio dell'aria. Ovviamente facevano di tutto il Vietpong per abbatterli, però gli americani avevano... E come facevano a stanarli dalle loro giungle? Usavano anche il napalm, ok? O l'agente arancio, si chiamava così, un defoliante per proprio sfogliare la giungla e mettere, diciamo, in evidenza questi Vietpong. La guerra fu durissima, il Vietnam del Nord non poteva essere toccato, ecco perché hanno perso la guerra alla fine, perché gli americani non potevano andare nel Nord, che era protetto da Unione Sovietica e Cina. E quindi, in teoria, la guerra del Vietnam era tutta una organizzazione interna al Vietnam del Sud. I partigiani Vietpong ricevevano i rifornimenti attraverso il sentiero di Ho Chi Minh, cioè in pratica con camion, biciclette e anche a piedi, continuavano a portare rifornimenti dal Nord verso il Sud, dove c'era la guerriglia. Era, diciamo, una situazione sempre molto fluida. Agli americani, spesso volete, risaltavano i nervi, per cui, che so, massacravano un villaggio sospettato di aver ospitato il Vietpong, usavano i lanciafiamme, i carri armati, ne combinavano di cotte di crudo. E bombardavano in maniera pesantissima il Vietnam del Nord. Cioè, non potevano mettere gli stivali, si dice così, sul terreno del Vietnam del Nord, però lo potevano bombardare allegramente con i B-52. In pratica, in un anno, insomma, nella guerra del Vietnam, sul piccolo Vietnam del Nord, finirono più bombe di quelle sganciate in tutta la Seconda Guerra Mondiale. Una cosa devastante, capite bene. Eppure il Vietnam del Nord è riuscito a resistere. Perché? Perché a certo punto, vi dicevo, l'opinione pubblica americana non ne può più. Non ne può più, anche se militarmente possono vincere la guerra, insomma, non vogliono più andare avanti. I soldati, o meglio, i cittadini americani che dovevano partire soldato, bruciavano le cartoline precetto, c'è gli avvisi che li obbligavano a andare al servizio di leva, a presentarsi al servizio di leva, persino l'ex presidente Clinton lo fece, e in ogni caso si rifiutarono. È importante, perché ragazzi? Perché il Vietnam ha portato a enormi proteste, soprattutto verso la fine degli anni 60, 1968, queste proteste degli americani, che erano comunque patriotti, erano comunque patriotti, amavano le loro patrie, eccetera, però non volevano più la guerra con il Vietnam, ha portato delle... come si può dire? Si è propagata questa protesta giovanile anche in Europa, e in Europa c'è stato il 1968, cioè i movimenti giovanili del 68, movimenti di protesta, nei confronti dello Stato, della Chiesa, delle istituzioni in generale, addirittura, va bene, comunque è un argomento abbastanza pesante che affronteremo in storia. Quindi il 68, che ha sconvolto e cambiato la società occidentale, prende origine praticamente dal... come pretesto, diciamo così, la scintilla che ha generato il 68, sono le proteste contro la guerra in Vietnam. Pieno così di canzoni degli anni 60, della fine degli anni 60. Ma perché gli Stati Uniti si sono impegnati così tanto, hanno speso miliardi di dollari in Vietnam? Per la paura del cosiddetto effetto domino. Cioè, come sapete, no, il gioco che si fa con le tessere del domino. E la loro paura era se il Vietnam del Sud diventa comunista, allora l'intera Indocina può diventare comunista, la Thailandia, che era alleata americana, diventa comunista, e rischiamo anche che l'Australia arrivi, le Filippine divengano comuniste. Quindi, Filippine, che sono sempre state, e lo sono ancora oggi, alleate degli Stati Uniti, erano in pericolo, e quindi l'obiettivo degli americani era fermare il contagio comunista. Chiaro il messaggio? Ecco perché è importante. Quindi, due conseguenze, due conseguenze, o meglio, sì, due conseguenze, l'unica guerra persa dagli Stati Uniti e appunto le proteste del 68. Che cosa ci è rimasto? Ci è rimasto la Cambogia. Cambogia è un piccolo stato, un piccolo stato disgraziato. La Cambogia, eccola qui, questa qui verde, ecco, la Cambogia, anch'essa era appunto, come vi ho già detto, sotto dominio francese. Andati via i francesi, c'è stato il re, poi dopo il re il dittatore, Long Noh, mi sembrava si chiamasse, eccetera, eccetera, poi è nata una bellissima, simpaticissima guerriglia comunista. I comunisti, a un certo punto, hanno preso il potere. Cambogia era destabilizzata già dalla guerra di Vietnam perché ci passava appunto il sentiero di Ho Chi Minh e quindi gli americani bombardavano il sentiero di Ho Chi Minh che portava i rifornimenti al Vietcong. Allora, di Riffa o di Raffa, alla fine della sua nata, verso i primi anni 70, la Cambogia finisce sotto il dominio di questo signore molto sorvidente, molto simpatico sempre, che si chiama Paul Pot, non Paul Pet, Paul Pot, Paul perché Paolo, sembra, perché lui, ragazzi, come tanti abitanti delle colonie, abitanti importanti delle colonie francesi, andò a studiare a Parigi. a Parigi venne a conoscere le teorie del marxismo, tornò in patria, in Cambogia, e si fece il promotore del comunismo in Cambogia. Il problema era che il comunismo cambogiano era comunismo molto serio, cioè, in pratica, il comunismo cambogiano pretendeva, in pratica, un ritorno alle origini. Cioè, Paul Pot voleva cancellare ogni forma di modernità dal suo paese, perché diceva che, in pratica, la modernità aveva corrotto lo spirito degli antichi e degli antenati, e quindi bisognava tornare alle radici, alle origini, e cancellare tutto ciò che era moderno. Rimaneva come modernità soltanto i fucili, gli altoparlanti, e quello che serviva per mantenere qualche contatto con l'estero, quindi l'aeroporto e poco altro. In pratica, che cosa successe? Successe che la capitale e le altre città furono svuotate, abbandonate, ok? Completamente. E tutta la popolazione fu radunata in campi di rieducazione, dove erano i giovani, i bambini, a farlo da padroni, perché erano bambini innocenti, nel senso che non erano stati corrotti dalla modernità, e questi erano i guardiani, ok? E alla fine che cosa successe? Che chi si opponeva, chi aveva studiato, chi conosceva le lingue, chi portava gli occhiali e quindi aveva studiato in un certo modo, bene, tutti questi furono sterminati. O quasi tutti. Si arrivò, in pratica, a perdere un terzo della popolazione, circa due milioni di persone su sei, una cosa del genere. Capite? Pol Pot, che tipo era? Non era un tipo così allegro, eccetera, eccetera, può essere messo tranquillamente alla pari con i grandi dittatori, grandi, tra virgolette, massacratori del genere umano. Ovviamente non tutti accettarono questa cosa, anzi ci furono guerre di guerriglia, eccetera, eccetera, e si arrivò a una bella simpatica guerra civile, ok, che disseminò di mine l'intero territorio cambogiano. Oggi, come in Mozambico, come in Angola, in altri paesi, utilizzano appunto questi bei toponi simpatici per trovare le mine e sminare il territorio. La Cambogia è comunque un bel paese dove andare a fare il turista, adesso che si è un po' tranquillizzata, c'è il famosissimo Tempio di Angkor Wat, monumento dell'UNESCO, quindi via turismo, e purtroppo via turismo sessuale, appunto, pedofilia nei confronti appunto purtroppo dei bambini. Allora, di questa vicenda, poi Pol Pot fu scacciato dai vietnamiti, il Vietnam rionificato, pensate, i comunisti del Vietnam erano così scandalizzati, così inorriditi dalla durezza del regime cambogiano che decisero di scacciare i comunisti cambogiani di Pol Pot. C'erano anche interessi politici, non l'hanno fatto soltanto perché erano buoni, però, capite. Allora, c'è un bellissimo film che si chiama Le urla del silenzio che parla delle vicende vere di un giornalista cambogiano, amico di un americano, che racconta le sue vicende nei campi di concentramento, nei campi di lavoro e rilucazione. vi farò vedere una piccola breve sequenza di questo filmato. Un attimo solo. Ecco, lasciamo la parola a questo giornalista che racconta la sua esperienza presso i campi di concentramento. di questo filmato. Sidney, penso sempre a te e alla mia famiglia. Qui ripetono continuamente che Dio è morto. Dicono che loro partito, che chiamano Anca, provvederà a tutto quello che ci occorre. Il capo sostiene che l'Anca ha accertato l'esistenza di nuova brutta malattia, definita la malattia dei ricordi. Ciò è il continuo riferimento del pensiero alla vita anche a maggio prima di rivoluzione. Lui dice che siamo circondati da nemici, ma il nemico è anche dentro di noi. Non ci si deve fidare di nessuno. Sostiene che bisogna essere come vuoi e non avere pensieri altro che per il partito. non amare nessuno tranne l'Anca. Si muore di fame ma non permettono di coltivare niente. Dobbiamo onorare i compagni bambini le cui menti non sono contaminate dai ricordi del passato. non è necessario la Commissione che si muore di coltivare di coltivare il paese di coltivare e di coltivare il metto di coltivare Anca ha bisogno di voi. Anca perdonerà tutto il passato. Anca perdonerà tutto il passato. Perché questo è l'anno zero e bisogna cominciare tutto da capo. Ho una paura terribile, Sidney. Devo far finta di non capire né il francese né l'inglese. Non devo avere un passato, Sidney. Questo è l'anno zero e niente è successo prima d'ora. Qui soffia un vento di paura e di odio. La guerra ha ucciso l'amore, Sidney. E quelli che confessano all'anca svaniscono nel nulla. Ma nessuno osa domandare che fine abbiano fatto. Qui soltanto i muti sopravvivono. Ultima. L'abbia. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti